salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di nino con i due bene stavo viaggiando per i vari paesi per vedere se effettivamente ci fosse qualcosa che è caduto è successo o ci sono degli eventi in corso e si questo pezzo di ciuffetto d'erba impazzito e posseduto in sinistra e sono entrato qua ho visto un punto interrogativo volevo avvicinarmi per poter far sì che attaccavo il video e parlare ma appena mi sono avvicinato ha iniziato a parlare da solo e quindi leggiamo o vostra maestà evan scusa tu sei io sono pec ecco io io parla ma che cazzo ce la faccio non riesco a dirlo a cosa e aspetta di cosa voluto parlarmi ma è fumato duro questo è il suo amore per i campi aumenta la produttività dell'orto beh mi può essere utile si vediamo questa missione e che cacchio devo fare ma dove cavolo è finito a e di sotto aria inferiore va bene andiamo di sotto ci sono rimasti un po è però insomma sì abbiamo pure vedere bello girare non mi ha dato niente quindi è stato un caso l'altra volta questo neanche ci parla con me è brutto e cattivo vabbè andiamo dal tipo va che è meglio che sennò c'è da un casino qua mamma mia che cosa avrà fatto perché era così sconvolto e ciao tipo è vostra metà come mai siete qui chissà perché ti stavo cercando non dovevi dirmi qualcosa siete venuto qui a posto per cercarmi certo mi sembra di capire che ci sia qualcosa di cui vuoi parlarmi sono qui per ascoltarti davvero allora ecco ma questo è proprio scemo non posso dirlo questo è proprio scemo scappato di nuovo meglio trovarlo subito ma che cazzo facciamo nascondino qui ma porca miserica ma perché ci sono due vie perché vedo due vie allora due vie aria superiore ok torniamo di sopra cosa devo dirvi voglio vedere un attico qua scusatemi perché voglio fare un po di scorte di cose se mi mancano a queste sono le lancini questa roba questa dicevo che è perché mischia le cose ok e vendesse o consumabili o armature invece vedete due andiamo di sopra a questo pare di qua e vediamo cosa ci dice sperando che stavolta ci parli perché insomma si è un po un po strano questo personaggio è di qua vero di qua ma di qua si scende ma si sale vediamo che no troppo in alto caspiterina sei e qua ciao ecco di qua è vostra metà siete venuto di nuovo a cercarmi sei scappato sul più bello vorrei davvero sapere che os hai da dirmi ecco in verità mi chiedevo se sareste disposti a darmi il permesso di permesso di far cosa ma questo è scemo no non ce la faccio a chiederlo lasciamo perdere meglio perché devo dove sarà finito stavolta voglio scoprire cosa gli succede c'è qualcosa che non va nel cervello che cosa gli succede porca miseria schiava pec perché è un peccato che non ci abbia cervello perché allora devo andare all'assorbatorio e saliamo che mi hai fatto girare lungo il lago spero che sia qualcosa di davvero grosso perché c'è la tua stupidità a essere grossa siamo nei guai ok adesso basta scappare pecc o fatti shanti fatti valere cosa shanti anche tu se mi mi stai cercando siamo un gruppo mi avete seguito fin qui parla pure tranquillamente vorrei sapere cosa hai da chiedermi e va bene mi farò coraggio come un vero uomo alleluia bravo così si fa ecco vostra amistà vorrei chiedervi il permesso di scappi ancora ti butto giù di sotto e coltivare un campo io questo qui lo ammazzo coltivare un campo proprio così vedete io non sono come gli altri pirati non ho le abilità di carro la grande forza fisica di grand non sono un granché come pirata dei cieli ma vorrei almeno diventare un utile utile del regno perciò ho iniziato a pensare a qualcosa a quale forse il miglior modo per aiutarvi quindi vuoi coltivare un campo esatto sono sicuro che lavorando nei campi potrò essere essere davvero utile gli ortaggi da me coltivati faranno la felicità di tutti se le cose stanno così sarebbe magnifico vieni pure a coltivare tutti gli ortaggi che vuoi riempiamoci di tutto il regno di ortaggi anche nei vasi metri grazie mille vostra maestà evan d'ora in poi mi dedicherò e a crescere il migliore degli orti ci metterò tutto me stesso e anche un altro avevamo che doveva andare nell'orto se non sbaglio adesso ci andiamo subito è perché sennò è un casino andiamo pure a vedere l'orto qui entra nel castello si dovrei avercelo l'orto se non ricordo malo prendiamoci soldi per carità non sono tanti ho costruito qualcosa non mi ricordo cosa ve lo faccio vedere però niente di che ha il posto minerario livello 2 ecco il coso minerario come si chiama la gilda mineraria livello 2 che questa qua eccolo qua e ci ho messo quello lì che era di basso livello così possiamo fare più cose allora vediamo un po l'orto 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 quindi non so qual è l'orto andiamo agli edifici e vediamo un po se lo trovo orto anche lo sia questo il navale l'orto 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 dimensionale cattolimeca teatro l'orto 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 della magia sono disponibili per i corti di l'agile di eliminatori no come sarà l'orto cercato ricordo se l'ho fatto se c'è pesce 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 segheria segheria orto ok vedete che ce l'avevo non ce l'avevo eh eh costruiamo un bel orto va che è meglio va 240 così insomma sì eccoci qua un bel orticello c'è anche lo spavetto a passere e vediamo di metterci dentro il tipo miglioriamo direttamente allora cosa ci darà questo grano piselli e vediamo migliorando cosa succede 2100 cosa ci riuscirà mai ok leggermente più grande ma neanche di tanto vediamo cosa esce oh già più roba ed è più interessante miglioriamo ulteriormente 7000 ce li abbiamo e vediamo cosa ci esce mi sembra sempre la stessa che ho detto ma sarò l'ho incoglionito io scusate ok ho adesso c'è molta più roba e alcune di queste non ne ho vedete queste ne ho le ho le ho le ho queste ne ho solo due quindi buono queste ne ho zero quindi ottimo e queste ne ho zero quindi va benissimo zero anche di patacche patatosa bene assegniamo eh assegniamo ne abbiamo solo uno è un peccato è posto non dovremmo avere più problemi adesso il problema che mi sorge è questi materiali qua si riempiono in fretta e non riuscirò avere tutto quello che produco e quello è il problema vabbè è proprio più scemo ecco come lo compro ma io non li avevo 10.000 molte grazie per l'acquisto e soia gioia una rarissima varietà di dado gioia su ogni sua singola freccia troverai uno faccia troverai un uno per noi di kangaia è il numero più fortunato in assoluto sai cosa vuol dire che questa soia è un simbolo di fortuna e di felicità e con questo grazie ancora oh no non esiste proprio puoi essere il più grande portafortuna del mondo ma 10.000 dollari è un prezzo semplicemente folle scusa evanum fammi un po' dare un'occhiata a quella soia ah ma il baccello è aperto questa è una patacchia ho piato semi del dados con numero uno e l'appiccicati che bastardo inseguiamolo dobbiamo farci dare i soldi anche perché io non li avevo con i soldi ok quindi vieni con noi il suo istinto acuto aumenta la produttività della agenda dei minatori oh si che bello ragazzi io i soldi non li avevo non so come gliela dati si vede che era proprio obbligata perché ho comprato un po' di cose per cercare di avere un po' di scorta di quello che non avevo così se me li chiede come questa le ho già tipo pesci vari cose che vendevano i mercanti ecco di qua ridacci subito i soldi cacci i soldi eh mi avete seguito perché perché mi hai dato l'inculata devi solo capitarmi tra le mani brutto impostore se non ci li dai i soldi assaggerai la furia dei miei pugni ecco qua no aspetta vi restituirò devo soltanto restituirveli no no chissà come ve li ha dati che non li avevo hai consegnato sto coso con i danni dentro dimmi perché l'hai fatto eh mio padre era un minatore ma è morto per questo devo cavarmela da solo se voglio guadagnarmi da vivere di che vivere sì ma non dovresti farlo imbrogliando la gente ma io sto solo vendendo bei sogni ai turisti non mi sembra di imbrogliare no insomma punto di vista ma non è proprio il migliore e poi non pensate che poter sognare sia bello per me non è altro che un modo di raccimolare soldi gioia gioia non so ha come l'impressione di aver già sentito questo nome papà diceva sempre perché la vera gioia la vera soia gioia si trova nella grotta goccia gocciolante ma in verità ma in vita sua non l'ha mai trovata e così eccomi qui il figlio di un genitore stupido che non ha fatto che inseguire il miraggio della felicità anche se ci credi con tutto il cuore non avrai mai la felicità ecco perché sfrutto chi la cerca per guadagnarmi da vivere ci può da sì può darsi che tu abbia ragione ma in tal caso io troverò la vera gioia soia soia gioia perché ti chiamo ehi eval un momento cominci con le tue promesse a mambera invece la troverò di sicuro tu devi solo aspettarmi qui beh mi sembra matto ti aspetto qui ma senza fammi troppe illusioni ok beh abbiamo una quest a quanto pare ci muoviamo facciamo qualcosa che bello dunque e dove cazzo ah beh devo andare qui vicino volevo andare un attico dal tipo per vedere dubito che ci sia oddio perché secondo me tutti quelli che potevano prendere qui li abbiamo presi dovevo andare in una nuova zona però dai magari un po' di fortuna vediamo un po' e dopo dobbiamo farla questa anche qui di fuori un po' lontano insomma sì tu le quest le avrai in fumo immagino ottieni uno spaccatori a molte eh vabbè alcuni ce li ho dopo guardo vedo se li posso fare ma volevo vedere un attico questo infatti non ce li abbiamo va bene prendo le quest che devo prendere e ci vedo dopo poco ok ragazzi mi sto dirigendo verso la quest dovrebbe essere qui può darsi qua di sotto quasi sicuramente sarà di sotto andiamo di sotto a vedere cosa se c'è una caverna o qualcosa è probabile una caverna detta proprio in schiettezza in soltezza vediamo un po' come qua non vedo un cazzo eh per carità esatto c'è una caverna quindi io devo assolutamente trovare il modo di scendere devo andare di là così andiamo in questa caverna vediamo cosa di prendere questo coro l'altro ci sarà dubito che ci sarà modo di raccoglierlo nel senso che penso che sia più probabile che dovremmo combattere contro qualcuno vediamo lì ed eccoci qua sì siamo arrivati con la nave bene non c'è altro metodo siamo entrati vediamo un po' che succede vediamo oh guardo se c'è qualcosa di nuovo da prendere speriamo panna fresca no ce l'avevamo già vabbè niente vediamo un po' ho fatto quelle questa adesso abbiamo 402 gettoni speriamo di poterli usare questi gettoni se no è un po' un casino anche perché comprare la roba che chiede lui a volte 20 gettoni vuole troppo quindi non conviene non conviene solo reclutare la gente ok ci siamo 32 li facciamo d'occhi chiusi dai è stato facile ecco guarda usciamo anche la squadra nuova che volevo potenziare ma mi manca un materiale e quindi mi serve un illuminatore che mi provano con il materiale ragazzo ragazzo sai cosa sei tu non lo so una fattina ok a posto no sono nuovi mamma mia sono tosti eh però pure la squadra nuova ok perfetto bello mi piace mamma mia che assia prorompente di lui troviamo spesso qualcosa adesso ci guardo un attico eh guardate un attico scusi ho sbagliato vediamo un po' equipaggio vado al tipo no da queste queste qua però non malo eh ragazzi 129 perfettico vai sei stato fortunato te ragazzo allora vediamo di trovare sto fiore ma oh l'ho visto già da qua guardate e qui a sinistra sto prendendo questo a destra ecco qua dovrebbe essere questo esatto bene sono contento ottimo ragazzi io adesso voglio esplorare un attimo la caverna perché può darsi che ci sia quelli quelli brutti e cattivi di livello alto che ci danno una buona arma non mi dispiaceva una buona armatura quindi la voglio esplorare un attimo tanto quanto grande sarà questa caverna sembra già finita ma è tutto un pezzo di tessuto grezzo mi fa piacere vediamo se c'è qualcosa se no ci trasportiamo e basta vediamo un po' vediamo se c'è un cioffolo o qualcosa intanto adesso non mi attaccano c'è uno schigno vediamo lo schigno intanto non mi attaccano questi non c'è problema anche se sono bianchi eh eh beh questi possono essere anche interessanti cerchiamo di stare alla larga che non mi hanno visto eh ma mi hanno visto vabbè dai amen volevo prendere un po' tutto per vedere se effettivamente c'era qualcosa interessante perfetto dai facciamo questa attifretta ok speriamo che ci diano qualcosa di buono a questo punto ci spero no un po' ecco qua ottimo siamo stati tutti si raccolgo tutto con calma ecco qua mi ho preso tutto un'altra ascia cioè troviamo solo roba per lui accidenti a lui una carota vabbè la carota può essere utile ok teletrasportiamoci e vediamo un po' di portare anche lui dalla nostra parte bene sono contento che mi serviva proprio una da mettere là perfetto ragazzi in questo gioco bisogna sempre tornare indietro sui propri passi vedere se c'è qualcosa che si attiva perché in questo gioco si attiva sempre dopo quando si fa determinate cose quindi più posti ci saranno probabilmente più persone si attiveranno qui dietro ok ciao papà parlava di una grotta di una certa grotta gocciolante è lì che dovrete trovarsi la vera soia di gioia si l'ho trovata eccola qua consigli il baccello di vera soia gioia questa è la vera soia gioia tuo padre ha sempre avuto ragione davvero questa è autentica pazzesco no guarda a differenza della tua non ci sono tagli né aperture è quella vera siete andati a cercare la posta per tirarmi su di morale vi ringrazio amici ok sono stato fortunato a incontrare delle persone come voi è proprio vero che la soia gioia è un simbolo di fortuna e di felicità senti Evan vorrei sentire venire con te se sei d'accordo ma te l'ho chiesto io prima ma certo sarai più che benvenuto ottimo ragazzi questo qui è della agenda dei minatori la vado subito a mettere così siamo a posto e partiamo per il viaggio perché non ce la faccio più allora agenda dei minatori che io se non sbaglio ho fatto la agenda dei minatori 2 e guardate già i soldi quando li abbiamo presi e qui madonna i materiali e quindi andiamo a mettere subito la agenda dei minatori 2 ok questo è il regno era qui in basso agenda dei minatori 1 ci mettiamo là che è bella potente e agenda dei minatori 2 potrei fare anche la 3 però insomma si mettiamo per adesso lui miglior edificio cosa vuoi 36.000 cioè è proprio economico va bene assegniamo e mettiamo lui perfettico sono contento tanto contento bene ragazzi io direi che a questo punto ci saluterò qua scusate ma a meno così abbiamo fatto un po' di completismo e sono contento di questo così a meno non mi lascio niente a caso io come al solito vi invito salvo like e commento se mi piace e fammi sapere cosa ne pensate e poi adesso vi saluto la cima ciao 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 ciao